Ciao ragazzi, benvenuti a Ryan World Channel Oggi vi farò vedere i Rollins dell'Esse Lunga Che si chiamano Rollins 2.0 Allora, ne hanno fatti dei nuovi perché tra un po' arriva il film Se vi ricordate, due anni fa c'era la versione vecchia Eccoli qua, già ne ha aperti tre Che sono questi? Prima c'è la guardia petroliana Eccola qua, guardate, tutto è in rosso Poi, il secondo è Yoda Guardate come l'hanno fatto bello con la spada verde Perché prima nella collezione Rollins di due anni fa non c'aveva la spada verde Poi l'hanno fatto con la spada verde, è anche carina Poi, il terzo è Luke Luke Cavaliere Jerry Eccolo qua Poi, adesso ora, mettete un like e iscrivetevi al mio canale Cominciamo Allora, qua troviamo Darth Vader Eccolo qua Con la spada rossa Con la spada rossa, anche bello Bellissimo con la spada rossa, anche carino Ok Adesso ora, il prossimo è Uh, troviamo la, una guardia Una guardia Troviamo una guardia Che penso che sarà un'aiutante di Darth Vader La mettiamo qua Sono anche Carliscia Guardate questi Rollins Spero di trovare BB8 o Yoda dorato Perché se trovate Yoda dorato, siete fortunati O Darth Vader dorato Vediamo che abbiamo trovato Questo deve essere un pilota Eccolo qua Questo qua è un pilota Ecco qua Adesso Apriamo il prossimo Che io penso che sarebbe BB8 Perché sapete Se io trovo BB8 Sono contento Che BB8 è il mio preferito Infatti l'abbiamo trovato BB8 Eccolo qua BB8 Guardate com'è carino Ok Ecco qua i miei Rollins Quali vi piace? A me piace BB8 Poi a me piace anche Il pilota Questo pilota Ciao ragazzi Da Ryan World Channel